Il campus Mare Nostrum 37-38, campus di eccellenza internazionale tra l'Università Politecnica di Cartagena e l'Università di Murcia, Spagna, per l'anno accademico 2017-2018, mette a disposizione 64 borse di studio per svolgere 11 master universitari presso l'Università Politecnica di Cartagena, in collaborazione con IMS Gestione Dipendenti Pubblici. Le borse di studio sono destinate ai figli e agli orfani dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione. Ciao, sono Giulio Doria e ho studiato architettura in Italia e qui ho fatto il master in patrimonio architettonico. Sono Luca Trescato, vengo da Padova e adesso sono qui all'Università di Cartagena frequentando un corso di MBA. Sono Valerio De Stefano e sono qui per un master in edificazione dell'architettura a Cartagena. Mi chiamo Valentina Tomet, sono di Catanzaro, ho 27 anni. Invece a Cartagena studierò il master della facoltà di architettura tecnica, scienza e tecnologia dell'edificazione in architettura. Ho avuto questa esperienza a Cartagena già due anni fa, per cui in parte sapevo già la lingua e in parte l'Università attraverso la borsa IMS ha messo a disposizione dei corsi in cui ho potuto perfezionare e migliorare nel corso di tre mesi di un corso a parte. Non conoscevo lo spagnolo, non parlavo spagnolo e anzi devo dire che è stato molto utile il corso di lingua che abbiamo fatto all'inizio, prima di iniziare il master. Mi piace, è accogliente, ci sono diversi scenari, panorami, attività da fare ed è molto facile fare amicizia, fare gruppo e divertirsi. È stata giovane e quindi dà molte possibilità. I professori sono molto disponibili. L'esperienza in generale è stata positiva. In cui ti senti immediatamente a casa, a faccia sul mare, offre tante possibilità, tante cose da fare. Ho un legame particolare con questa città e penso sia un territorio che si stia sviluppando molto rapidamente e sia diventato molto appetibile per le imprese e per un investimento nel turismo che sta crescendo di anno in anno. Diciamo che non so nel dettaglio, ma sicuramente so già che il master mi può aprire un ventaglio di possibilità più ampio, perciò cercherò anche di utilizzare il tirocinio del master come trampolino di lancio per una futura carriera. Completare questo master, iniziarlo a dire il vero e completarlo e iniziare a lavorare all'estero. Io spero sinceramente di riuscire a restare il più possibile qui perché è una terra che merita, si sta sviluppando molto e ha delle potenzialità molto forti. La borsa di studio Campus Mare Nostrum IMS comprende immatricolazione a master, corso intensivo di lingua spagnola, corso di alta formazione, palestra universitaria e all'esame DELE dell'Istituto Cervantes. Inoltre è previsto un tirocinio retribuito e un pocket money. Ti aspettiamo! Grazie a tutti!